no è bellissimo e non ci sono incontri casuali quindi è che paura no 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 scusa mi avrei dovuto avvisarti di quelli ti spiego il funzionamento più tardi non ci sono pokemon nei corridoi sono stato aggredito da un dactrio madonna mia non ho avuto questa paura neanche giocando a penumbra porca miseria ok mi ha fatto tutta la preparazione ero tesissimo scusami 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 avrei dovuto avvisarti non ci ho pensato jumpscare diglett pokemon jumpscare è una cosa mai vista prima però cazzo ok fantastico